domenica 3 marzo 2008 no io faccio il 31 ancora senti non mi rovinare il video guarda che è sempre il 2 marzo comunque non è il 3 marzo 3 domani ah hai ragione ho sempre ragione domenica 2 marzo siamo a siamo a castel delfino delfino castello alfero vista vista mare a 369 gradi ecco il castello facciamo battute volgari che sono quelle semplici che fanno ridere io faccio ridere almeno dai 2 di marzo come puoi vedere dal mio orologio vuoi recuperare una di quelle potete belle che hai fatto ieri no mi vengono in mente in questo momento va bene ciao